Caratteri in fuga Aiuto, aiuto! Le lettere sono scappate da un libro che nessuno apre più. Dove saranno finite? Le lettere sono scappate in un buco polveroso di una vecchia casa abbandonata. Leggi per vivere emozioni Le lettere sono scappate in Canada con l'aereo. Leggere ti metti in relazione con altri mondi Le lettere sono scappate sull'isola deserta. Leggendo la mente si illumina Sono scappate nel frigorifero I libri hanno caratteri che arricchiscono la lettura Giacomo Bettini Antonio Ricci Mubarak Tarnagda Gerardo Di Pippo Samuele Franchini Andrea Mazzoni Francesca Cioffi Federica Benassi Amira Trabelsi Amira Trabelsi Giacomo Bellini Amira Trabelsi Alessandra Ori Amari Alessandra Slatt Alessandra Slatt Sumit Singh Il mio amico Francesco Muscaritolo Matteo Rampino Alessandro Turisco Alex Monti Il mio amico Omar Ciafki Sayas Guayani Maliwan Bai A me piace leggere perché mi trasporto in un altro mondo A me piace leggere perché la vita è un po' noiosa così quindi quando leggo un libro mi trasporto proprio in quella scena e è avventuroso I libri sono belli e ti fanno proprio diventare il personaggio Preferisco i racconti di fantasia Io preferisco i fumetti Mi piace il genere biografico A me piace il genere stupido, quello che fa ridere A me piace il genere di paura Scuola media e gli anni peggiori della mia vita Sandopaper Mark & Mark Diario di una schiappa Il fantasma è nascosto da qualche parte vicino a te Piccole donne La ragazza e il delfino Il mio posto preferito per leggere è Camera Mia A me piace o sotto un albero o sull'amaca all'ombra In spiaggia Su una panchina in montagna A me non piace leggere perché ci sono troppe parole Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti